ha usato un termine, c'è una destra sovranista che sta subendo, sta soffrendo in questa fase. Potete ben capire che io non centro niente con una destra sovranista, ma non posso non leggere che nell'operazione che c'è in atto, almeno da due anni, di normalizzazione ulteriore del sistema politico a favore del meccanismo della finanza, del buon governo, che la politica deve stare fuori. Infatti lo vedete, la gente non va neanche più a votare, questo dato va detto, noi abbiamo avuto queste elezioni. Qualcuno dice perché voto e il mio voto poi alla fine qualcuno ha interpretato così la stenzionismo. E poi però il passaggio successivo è partire, tanto questo governa bene anche senza questi partiti, senza queste robe, sono tutte cose inutili. E quindi, ad esempio, se io fossi giornalista, io sono giornalista, direi che è strano che un signore che si chiama Salvini, che ha fatto la sua fortuna sull'immigrazione, sulla lotta all'immigrazione, sulla droga, su queste robe qua contro la droga, una settimana prima delle elezioni abbia quello che gli sta di fianco, che viene travolto da un treno di questo genere. Non dico che non ci siano le cose, però viene fatto nella settimana prima delle elezioni. La Meloni, non è che non ci sono i fasci, noi li chiamavamo così, dentro le fila da Meloni, però lo si scopre la settimana prima delle elezioni. Sono tutti messaggi, come dire, signori, voi della politica dovete stare lì e fare poco, poco, poco. La normalizzazione va avanti e guardate, lo dico da un punto di vista filosofico, ormai ho 60 anni, posso anche permetterlo, l'elemento del controllo della democrazia, del rapporto tra dittatura e democrazia può essersi in vari modi. Nel secolo scorso era il secolo dell'acciaio e quindi era il secolo del sangue, del ferro e dell'acciaio. Questo è il secolo di un controllo molto più sottile, molto più legato alla comunicazione, sofisticato, è un controllo culturale, mediatico, della costruzione dell'opinione pubblica. Una volta ti sparavano, adesso ti fanno un'inchiesta, adesso ti fanno un articolo di giornale. Insomma, c'è un meccanismo. Io vorrei portare, so che è un discorso elitario, perché non interessa a nessuno questo, però guardate stiamo entrando dentro un modello di sistema di questo genere. E tutto quello che accade non è che accade per caso, accade.